Salve ragazzi, in poche parole vado a spiegarvi senza tanti inglesismi o tecnicismi la mia esperienza, la mia prima esperienza con la fibra FWA di Wind. In particolare la connessione FWA o la fibra mista, come la chiamano alcuni, è quel collegamento che ti consente di avere quasi la velocità della fibra anche se non abiti in un posto dove effettivamente arriva la fibra. Questo perché? Perché la fibra arriva alla torretta e la torretta dove arriva fisicamente la fibra manda un segnale radio a un ricevitore o l'antenna che hai a casa e tu puoi usufruire di quella velocità che poi non è proprio come la fibra Fibra ma meglio di niente, soprattutto in posti dove abito io che sono occultati perfino su Google Maps, manco fosse l'Area 51. Ma vediamo qual è stata la mia povera esperienza con l'FWA di Wind 3. Ragazzi premetto subito che siccome il mio indirizzo è introvabile non ho potuto usufruire del modem con antenna già prevista e ho dovuto acquistare un'antenna da me su Amazon, il link in descrizione se vi interessa, la potete vedere nelle video, vi arriva con due cavi lunghi 10 metri. Adesso vediamo tutto il procedimento di montaggio. Questi cavi non sono tanto flessibili ma potete comprarli anche a parte con una spesa di 10, 15, 12 euro al massimo. Il modem è quello che vedete, un bel padellozzo, eccolo qui. Vi arriva direttamente con i connettori quindi vi basta solo collegare. Dietro ci sono le vidi dove posizionare la staffa prevista. Questi sono gli adattatori per un altro tipo di collegamento che a noi non ci serve perché il modem è già previsto del suo attacco primario, già quello che c'è sull'antenna. Leviamo gli appositi tappi che sono su un'estremità e sull'altra e non facciamo altro che avvitare, congiungere, congiungere ed avvitare semplicemente. Dall'altra parte prendiamo il modem che mi ha fornito Wind, un modem abbastanza decente e avvitiamo la presa, l'attacco, come posso chiamarlo, più piccolo al modem. Semplicemente poggiando e avvitando. Niente di più semplice anche qui. Avvitiamo tutti e due i cavi e spostiamo fondamentale l'interruttore su EXT, su antenna esterna. Non interna, mi raccomando, su antenna esterna a destra, perché appunto questa è un'antenna esterna. Le antenne interne le ha già lui di default. Non dobbiamo fare altro poi che connettere lo zig cell alla corrente, accenderlo e collegare il nostro device cellulare o computer alla nuova rete creata. Se vedete tutte le spie verdi è buonissimo, ma se come nel mio caso vedete un segnale arancione, specialmente in quel punto, è perché non prende tantissimo. Purtroppo abito in una zona maledetta, anche con l'antenna faccio difficoltà, ma adesso vi faccio vedere il test prima e dopo l'antenna. E questo ragazzi è il test in diretta con l'antenna montata. Tralasciando la pubblicità, ecco voi il risultato. Vi metterò da qualche parte in sovraimpressione il risultato prima dell'antenna. Premesso che io, con un altro provider, avevo circa 10 MB in download e 0,2, 0,8, neanche uno in upload. Qui arrivo a 69 MB in download e circa 35 MB in upload, che per me è proprio un altro mondo. Vediamo un risultato adesso accettabile, anche se fatto con la spia arancione, con la spia verde, penso di arrivare a 100 MB, semmai la raggiungerò. Ho montato l'antenna sopra il tetto e io ho un'antenna a circa 4 km di distanza. Spero che a voi vada meglio. Bene ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me anche in questa occasione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!